Ci sono otto nuovi positivi riscontrati dall'Asela Dipartimento di Prevenzione nella città di Agropoli. A renderlo noto in una nota stampa il sindaco Coppola, nel contempo si sono verificate anche quattro guarigioni. Il dato dei positivi attuali sale quindi a 64, mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sale a 273. Inoltre, fanno sapere da Palazzo di Città, si sta procedendo con la campagna vaccinale presso l'ospedale civile di Agropoli e sta per essere attivato un nuovo centro vaccinale nella palestra che ospita la Croce Rossa in Viale Lombardia il prossimo 12 aprile, in modo da implementare il numero di vaccini giornalieri e rendere per la stagione estiva la città covid-free. A collaborare con la Croce Rossa italiana Comitato Agropoli del Cilento per la somministrazione dei vaccini sarà anche l'Avis di Agropoli, ubicata anch'essa in Viale Lombardia e presiduta da Rosario Capozzolo.